Cinque numeri e una somma che cambia la vita. Il nuovo anno ha portato con sé una vincita formidabile per un fortunato cittadino pesarese di mezza età che grazie alla giocata della solita schedina da un euro si è ritrovato in mano un biglietto dal valore di ben un milione. Un evento fuori dal comune che oltre al diretto interessato ha investito di entusiasmo anche i titolari della Tabaccheria 2000 nel quartiere di Soria, punto vendita in cui si è registrato il grande evento. È stata una cosa stupenda perché oltre ad essere emozionato la persona che ha vinto mi sono emozionato anch'io perché mi è saltato addosso e quindi è stato bellissimo. Un'emozione che non avevo mai provato in 28 anni che sono qua. C'era stata una vincita di 10.000 euro qualche anno fa però come questa non sapevo neanche con quanti zeri si scriveva un milione e quindi è stato stupendo. Era molto molto emozionato anche perché cosa faccio, cosa non faccio, come mi gestisco, come non mi gestisco. È stata veramente un'emozione per tutti e due. Sono contento perché comunque sono andati questi soldi a una persona che non era un ricco, non era un povero, ma era una persona normalissima e ha cominciato l'anno veramente col botto. Lui gioca sempre questa schedina qua, sempre questi numeri qua, non so a che cosa sono legati questi numeri. Anche perché poi è un gioco che non tutti conoscono, il Million Day. Si devono giocare per forza, obbligatoriamente, 5 numeri da 1 a 55, quindi non sono i 90 numeri classici dell'otto, quindi è anche più semplice. Si vince prendendone 2 o 3 o 4 o tutte e 5 logicamente.